si è tenuto ieri sera dalle eccellenze della filiera alimentare ai professionisti dell'alberghiero un webinar dedicato a riordinare e far apprendere le regole dell'accoglienza nell'alta marca trevigiana dove un atteggiamento positivo nel racconto del territorio ai turisti potrebbe in futuro determinare non soltanto la reputazione dell'ospitalità delle colline unesco ma la stessa economia dell'area affari da capofila già affermato progetto di filiera amica è l'atteria soligo che con l'ipsar beltrame di vittorio veneto e attraverso la rete del portale visit prosecco ilse ha promosso questa iniziativa per esprimere a pieno il valore e la dignità dell'agricoltura nell'area del galla alta marca credo che sia stata una buona iniziativa quella che è stata fatta con campagna amica bisogna continuare andare avanti e fare a parte promozionare il prodotto ma il prodotto deve essere anche presentato e chi lo usa l'opera deve conoscere i prodotti io credo che la promozione sia una cosa che deve essere fatta l'insegnamento è doveroso senza insegnare credo che difficilmente uno può diventare mago che o perlomeno immaginare di diventare questo allora io credo che questa iniziativa questo percorso che si sta facendo assieme alla scuola sia indispensabile auspico che anche dalla parte sia parte sindacale ma anche la parte politica sposino questi percorsi e aiutino questi percorsi per formare specialmente i nostri giovani sia una cosa che deve essere fatta l'insegnamento è doveroso senza insegnare credo che difficilmente uno può diventare mago che o perlomeno immaginare di diventare questo allora io credo che questa iniziativa questo percorso che si sta facendo assieme alla scuola sia indispensabile auspico che anche dalla parte sia parte sindacale ma anche la parte politica sposino questi percorsi e aiutino questi percorsi per formare specialmente i nostri giovani